Un bellissimo rapporto, facevamo le tournee con gli due insieme in Pullman per le highways americane ed è bellissimo perché tornavamo da queste tournee in Pullman per le highways come si torna dalle gite aziendali, io non so se qualcuno di voi ha mai fatto una gita aziendale però c'è sempre un momento durante la gita aziendale quando si torna che c'è uno in fondo al Pullman che intona una canzone e tutti gli vanno dietro e con gli due succedeva la stessa cosa, c'era Bono, Bono Vox, fondo del Pullman che cominciava, intonava un pezzo, posso fare alcuni, questo qui lo facciamo abbastanza spesso ma anche i pezzi meno politicizzati, questo forse ve lo ricordate di più questo faceva così No, questo lo facciamo immancabilmente e questo lo cantiamo tutti perché non potete non saperlo questo faceva così, insieme però What masoline, the flower, that came is from the mountain What masoline, the flower, that came is from... E' un Badabeng, perché Badabeng rimane anche... Badabeng non puoi tradurlo, non c'è niente da fare non si riesce a tradurre Badabeng, la mia cabella non è buona Allora, con gli effetti speciali degli O2, è una storia triste anche questa è la storia di un ciclista di Rovigo che mentre sta per battere il record dell'ora di Moser entra in vigore l'ora legale